A tutta l'unità a situazione di emergenza un rocking gun rouser. Il bersaglio ha piazzato una striscia chiodata. La situazione è pericolosissima. Il bersaglio è stato chiodato per eccesso di velocità. Il bersaglio ha piazzato una striscia chiodata nella tua area. Procedi con non tempo. Rilevo un segnale di accacciamento di EM. Cerca di ritardo. Contatto. Spesso ha ricevuto il suo ultimo avvertimento. Procediamo su monitor. Senza cautella. Oh! 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 Il messaggio è stato arrestato, ritirati